Buongiorno, buongiorno e pace a tutti, buongiorno e grazie a tutti sempre per la vostra presenza e il vostro affetto. Seguite silenziosamente come pregate e soprattutto vi mettete in discussione. Ricevo tante mail, tanti messaggi in questo senso. Se a volte fallite, cadete, non vi preoccupate. Rialzatevi subito, non date la soddisfazione al demonio di vedervi a terra. Rialzatevi, il Signore conosce il vostro cuore quando la fragilità è più forte della perseveranza. Rialzatevi, rialzatevi, rialzatevi. Il demonio sorride quando vi vede a terra. Non dategli questa soddisfazione. Per il resto, ecco, impegnatevi di più per essere davvero come Gesù vi vuole. Oggi voglio affidarvi in modo particolare a Padre Pio da Pietrelcina. Mentre giravo per casa, questa mattina quando mi sono alzato, mi è caduto l'occhio sull'immagine di Padre Pio e ho detto, sai che c'è Padre Pio? Oggi ti voglio affidare la grande famiglia. Tu che hai vissuto la passione di Gesù, con i segni della passione sul tuo corpo per 50 anni, sai quanto è difficile camminare ogni giorno nella volontà del Signore. Siamo tentati da ogni parte. Il demonio ci vuole distruggere. Il demonio ci vuole nella sua rete. Ma tu lo hai vinto nonostante ti combatteva, nonostante ti trattava male. Perché? Perché avevi la Madonna al tuo fianco? Perché Gesù camminava con te? E perché i segni della passione nelle tue mani lo ricordavano? E allora vi voglio affidare a Lui perché sia un giorno santo. Questo venerdì, 8 marzo, che è un venerdì che ci ricorda la passione di Gesù ed è un giorno anche che ci ricorda di amare le donne, non di festeggiarle, perché la festa potrebbe essere molto ridicola se si diventa soltanto un pranzo o una cena o una discoteca. Amare le donne, perché le donne sono le creature di Dio e vanno rispettate, vanno protette, vanno difese. Chi ama non uccide, chi ama non ammazza, chi ama protegge. E allora affidiamoci a Padre Pio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso Padre Pio, ti affido questa giornata e la mia vita. Vieni presto in mio aiuto. In questo tempo di cammino quaresimale e di tribolazione, il demonio mi vuole dalla sua parte, ma io appartengo al Signore. Aiutami a restare sempre nella volontà di Dio. Dolcissimo Padre Pio, vengo a te, pieno di fiducia, perché ho la certezza nel cuore che la mia supplica sarà più gradita a Dio se sarai tu a presentarla per me. Padre Pio, Santo, Protettore, Benigno e Clemente, prega per me davanti a Dio Onnipotente e chiedigli di avere pietà di me. Padre Pio, confortami nella prova, abbracciami nel dolore, sostienimi nella malattia. Sì il mio aiuto nella battaglia quotidiana. Proteggi la mia famiglia, gli affetti a me più cari, la mia stessa vita, il mio cuore perché non si perda in dissipazioni e ubriachezze. Padre Pio, prega per me affinché possa attenere aiuto e conforto. Padre Pio, anima nobile e fedele a Dio, sii il mio difensore e ottienimi ciò che ti chiedo. Domandiamo la grazia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E allora vi auguro una buona e santa giornata a tutti. Oggi alle 17.20 ci sarà il Santo Rosario a Maria. E poi vi voglio ricordare l'appuntamento di domenica, 10 marzo, a Cutro, provincia di Crotone, sala polivalente del comune, ore 17, la presentazione del libro Le vie di Maria. Chi non l'ha ancora letto lo faccia. È bellissimo perché davvero è un aiuto in questo cammino quaresimale. E scoprirete tante cose belle della Madonnina nostra. Poi vi ricordo Milano, 13 marzo, ore 18.30, Libreria Ubic Monterosa, Via Monterosa 91. Il 21 marzo a Licata, ore 17, Chiesa Sacro Cuore. E poi un appuntamento speciale, tra gli altri, il 7 aprile a Gela, la domenica della Fiesta della Divina Misericordia. Nel palazzetto sono stato invitato a presentare la mia testimonianza e il libro. Quindi vi aspetto. Ciao a tutti, un bacio, buona giornata.